Cari ragazzi del servizio civile, buongiorno. Inizia per la maggior parte di voi oggi l'esperienza del servizio attivo all'interno delle 707 sedi di pubblica assistenza diffuse su tutto il territorio italiano che ospiteranno nei mesi futuri i progetti all'interno dei quali svolgerete le vostre attività. A un passo di tutte le pubbliche assistenze vogliono darvi un grande benvenuto e soprattutto augurarvi che questa esperienza che vi apprestate a vivere sia davvero ricca di stimoli. Stimoli che arriveranno, siamo certi, dalla crescita umana e di competenze che giorno per giorno maturerete svolgendo le vostre attività all'interno dei progetti, ma soprattutto stimoli che arriveranno dalle persone che incontrerete, dalle persone e dalle esperienze che incontrerete nello svolgere le attività quotidiane alle quali sarete chiamati. Si tratta di attività importanti, si tratta di attività che hanno un grandissimo impatto sociale, che spesso viene scordato, del quale spesso non si ha coscienza, ma che siamo certi che al termine delle vostre esperienze rimarrà presente e del quale avrete piena coscienza per il resto della vostra vita. Quindi grazie per la scelta che avete fatto, per la scelta di dedicarvi ad un progetto di servizio civile e grazie per averlo fatto all'interno di una pubblica assistenza. A tutti voi l'augurio di buone attività, nelle quali mi auguro mettiate sempre grande senso di responsabilità e soprattutto grande entusiasmo che non deve mai mancare. A presto!